La gara è come tutte le settimane, cerchiamo di arrangiarci tra alcune difficoltà che si sono verificate da circa tre mesi a questa parte. Prepareremo sempre la gara allo stesso modo, anche avendo avuto delle notizie dell'avversario, quindi già oggi ci sarà del lavoro tattico, domani la stessa cosa. Soltanto che poi la domenica spesso vanifichiamo il tutto, non subendo anche l'avversario ma con degli errori individuali sui gol presi. Purtroppo questi quando succedono più di una volta sono limiti, noi lo sappiamo e cerchiamo di andare avanti. Per quanto riguarda la Rosa qualche buona notizia, ovviamente c'è il ritorno di Savio, riesce a recuperare qualcuno oppure la lista è sempre lunga? No, c'è Del Franco che è sempre infortunato, Velluso che è infortunato, Pino Buono che uscì a Barano per un problemino muscolare, Alessandro Iacono il 98 che non c'è. Il resto, a parte Pasquale che era squalificato che rientra, sembra che potrebbe essere della partita Mattias Iacono. Pensi che la partita di domenica ovviamente non è forse quella proprio da vincere, però effettivamente già riuscire a strappare un punto in chiave salvezza sarebbe davvero una cosa importante? Ma non lo so, mancano solo quattro partite, quattro partite bisogna cercare di fare più punti possibili, anche perché la terza ultima ha solo i due punti da noi, quindi anche in un eventuale play-out uno deve cercare di fare tutto il possibile per poterlo giocare qua. Una battuta velocissima, una curiosità, sull'altra panchina c'è un vecchio amico, un tuo ex compagno di squadra, vi siete già parlati in settimana? No, 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 non ci siamo parlati, anche se siamo amici su Facebook non ci siamo parlati. Amico, un grande amico rosario di squadra, ma anche amico del lunedì di cantina dove alcuni di noi dopo le partite all'epoca ci riunivamo da un nostro amico Raffaele che aveva una cantina verso i Maronti, questa è la zona dei Maronti e Cerminare era un buon gustaio, ricordo.